Di bocca al lupo e... Grande! Quindi già partiamo malissimo. Cinque! Cinque! Ho dato il microfono! Ho dato il microfono! Sei! Sei! Mimmo! Tutto il tempo. Ragazzi, ho messo la cravatta. Ti piace? Non va così. Scusa! Chi l'ha detto dove sta scritto che il nodo alla cravatta bisogna per forza farlo al collo? L'hai fatto al... Io ho anche fatto il nodo più stretto che mi fa bene la postura. Cravatta penica si chiama. La usano certi popoli però. Io ne ho paura anche di parlare. È bella l'idea la cravatta, al contrario. Sì, bella. Sembra stronzata. Magari quando io uscirò da LOL tutti metteranno la cravatta con il nodo fatto non al collo. A te piace il padel? No. Vabbè, ti insegno io. Questa è la racchetta. Non è troppo piccola. Per completo. Ma non ti faccio male? No, no, vai. Sei sicuro? Sì, questo è il padel. Non ti rompi i coglioni? Non ti rompi i coglioni? No, se ti ripiano, no. Allora, io so fare questa. Cabilame. Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh! 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 E' fatto molto bene! Guarda che entrata! Posa, man. Lo stavo preso negli Avengers. Quindi ho sviluppato le nuove pose per interagire con loro. Boseman, loro sono in trenta, noi siamo solo in due. Andiamo! Boseman, la situazione è critica. Che facciamo? Che ore sono, Boseman? Cinque e un quarto. Boseman, dove è il bagno? Fondo a destra. E mi sono morsa le guance per non ridere. Boseman, dove sono le uscite di sicurezza? Io lo vedo solo come un amico, ma lui mi ama. Ma poi nascerà un gino cane? Non lo so. Ti dico solo che a me mi hanno detto prendi un cane e vedrai che si cucca, però non pensavo di fare colpo su di lui, capito? È andata così. Proprio devoto, certo. Sì, sì, sì. Quanto è scemo un po'. Ho anche comprato una gamba gonfiabile, ma niente, lui è affezionato proprio a... Vuole la bestia a vivere. Come si chiama? Signor Foresta. No, il cane. Al cane, il cane. Diamogli un nome. Ripro. Sting. Basta. Stink. 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 No, questa fa ridere. Alle nonne, sai che piacciono anche le... Diamo un po' di caramelle alla... Alla nonna, ragazzi. No, no, aveva il diabete. No, scusa. Formate la catena. E quando poi abbiamo finito, tirate la catena. Lasciate la seduta come l'avete trovata. Scappate, è quasi mezzanotte, mi sto trasformando. E vabbè, io ho detto. Ora io connetterò il mondo degli spiriti con il mondo degli spiritosi. Prima cosa, la password. N piccolo, 2, 3, K grande, N piccolo, 17, N portamare, quanti sei così? Ma sta a fare la partita con la PlayStation, non ne puoi dire che parla. Lorenzo? Lorenzo? Mi senti, Lorenzo? Ti sento, sì, mi sta spaccare l'orecchio. Ma è morto, Lorenzo. No, è un piacere sentirla, Lorenzo. Ciao, vulvia. No, vabbè. Vulvia. Scusate i peli. Zombie! C'è stato veramente il caso di un morto che cammina? Sembra di sì, ma andava veramente piano. Veramente piano. Cioè, dovevi proprio farci caso di che camminava. Non ce l'ha manco tutto steppi di dito. I geoglifi. No, no. No, i geoglifi no. I giganteschi disegni visibili solo dall'alto erano un modo per comunicare con gli alieni, ma anche la scusa per incredibili volgarità. Geoglifi. Poi dici, perché gli UFO non prendono contatto? Beh, stanno parati. Stanno parati. Stanno parati. Comunque, molti UFO risultano che hanno la forma di muti. Sì, tu cresci la cianca. Ma io cono? Marina Abramovic. La Abramivmovic. No. Abramovic. Sono Marina Abramovic. Faccio arte contemporanea. Performance. Questo è il gabbiano. Questo è il gabbiano. Capisco la... Performance. Ovetto. Performance. Eh, anche alitosi però, non scherzo. Scopa! Wow! Credo di aver azzeccato il tempo perfetto. Il tempo è perfetto. Sì. Intanto, guarda, se tu puoi partecipare così e poi fai il tuo numero, è perfetto per quello che stiamo facendo. Ottantissima Stones. Disco Sir Taki. Mi chiama proprio. Eravamo tutti ben sincronizzati sull'uscirne vivi, ecco, l'unica strategia. Sembrano posseduti. Behind. Sexface. Doppio Anagni. Doppio Anagni. Sì. Fai conto. Uno. Due. Oh no. No! Ma che bravi loro due! Comunque ci hanno un'intesa! Oh my God!